Chiamo Cala Petente. Adesso andiamo a esplorare la grotta aerea e il suo barco. Già da questo punto si sente fortissimo odore di zolfo. Da qui il nome di Cala Petente. Adesso possiamo avvicinarci. Siamo esattamente sopra la risorgenza Foscurea. Si vede l'acqua che si muove. Prova ad andare di sopra. Dove? Prova ad andare di sopra. La grotta di Cala Petente. Si vede fortissima dimensione. Foscurea. Siamo all'interno della grotta Foscurea. Abbiamo orneggiato. Abbiamo orneggiato. Corpo. Assaggiamo l'acqua surfuria. Si, è fantastico sapore dell'acqua dolce ma è fantastico sapore di uova merceo. Quello diventa il nostro ripostino. Grotta zucurea secondo la chiesa. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!